La data dell'11 febbraio 2016 è passata alla storia per l'annuncio, da parte della collaborazione Laigo-Virgo, della prima rivelazione del passaggio di un'onda gravitazionale, un evento ipocale che apre una finestra completamente nuova e inesplorata per indagare l'universo e le proprietà fondamentali della fisica che lo governa. A poco più di tre mesi, la sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma ha ospitato un incontro riservato agli addetti ai lavori e dedicato alla discussione dei risultati scientifici legati agli studi condotti dalla comunità astrofisica su questo segnale, nonché alle prospettive future degli studi sulle onde gravitazionali e l'identificazione delle loro sorgenti. Il contributo di molti ricercatori INAF sarà davvero importante per capire in modo profondo la natura di queste due buchi neri che sono stati scoperti da Advance, Laigo e Virgo. È una scoperta che avrà un impatto straordinario sulla conoscenza di come evolvono le stelle, degli ambienti in cui questi sistemi binari si formano e sarà importantissimo perché potremo eseguire dei test di relatività generale in campo dinamico, potremo davvero scoprire con le prossime sorgenti, se esiste l'orizzonte degli eventi e come si formano questi oggetti. Attorno al 2030 avremo la possibilità di avere sulla Terra degli interferometri e dei nuovi laboratori per la rivoluzione di onde gravitazionali da sorgenti stellari e nel contempo potremo avere nello spazio questo interferometro che si chiama Ilisa che permetterà di vedere in anticipo le sorgenti che saranno rivelate a Terra. Non solo, potrà anche rivelare buchi neri molto più massicci in quale scienza e quindi ci sarà una sinergia straordinaria che ci permetterà di coprire scale di massa e ambienti astronomici completamente diversi con dei punti di contatto fondamentale perché alcune sorgenti come i buchi neri stellari massicci saranno prima visibili in Ilisa e poi negli interferometri a Terra. La caccia alle sorgenti celesti che sono responsabili delle emissioni di onde gravitazionali come quella registrata il 14 settembre del 2015 è uno degli obiettivi scientifici del team di ricercatori dell'INAF coinvolti in questo ambito di ricerca, come ci racconta Enzo Brocato, principal investigator del progetto INAF Gravitational Wave Astronomy with the first detection of ad-Ligo and ad-Virgo experiments. Certamente sono state date dei numeri, delle presentazioni che hanno fatto vedere con chiarezza come INAF abbia risposto rapidamente sia dal punto di vista delle osservazioni dallo spazio che da Terra, a quella che è stata la notizia scientifica dell'anno, quindi la scoperta dell'onda gravitazionale. Praticamente quasi subito siamo andati con i telescopi sia da Terra che dallo spazio a vedere se c'erano delle controparti elettromagnetiche, che è uno ovviamente dei goal e una linea di ricerca importante che potrà essere importante anche per il futuro dell'INAF. E un aggiornamento sull'attività di rivelazione delle onde gravitazionali ce l'ho da Marika Branchesi, ricercatrice dell'Università di Urbino, associata a INAF e membro della collaborazione Ligo-Virgo, intervistata per media INAF da Marco Malaspina qualche giorno fa a Bologna. Dunque, tutti gli articoli pubblicati riguardano il primo mese di dati, quindi noi stiamo chiaramente analizzando gli altri due mesi di dati. Per quanto riguarda i candidati mandati agli astronomi, come nei passati RAN ci sono stati dei candidati inviati agli astronomi e su questi stiamo facendo le analisi per capire cosa significano e che tipo di candidati sono. Ecco, ci sono dei candidati, ma mettiamo che ce ne sia un altro che si dimostra, altro che candidato, proprio un vero evento che genera onde gravitazionali. La volta scorsa ci fu un po' questo leggero disappunto perché Virgo, il rilevatore europeo italiano, era spento. È già in funzione adesso? Se non lo è, quando entrerà in funzione? Allora, dunque, il primo RAN è partito a settembre e si è concluso anche per l'Aigo a gennaio. I nuovi RAN partiranno probabilmente in estate e la previsione è che Virgo entrerà in funzione entro quest'anno e sarà fondamentale soprattutto per gli astronomi perché permetterà di ridurre la localizzazione dei segnali gravitazionali e quindi per gli astronomi è un punto estremamente importante perché se vogliono cercare la controparte elettromagnetica e puntare i loro telescopi è importante che questa regione sia piuttosto piccola e non enorme come quella del primo evento che copriva quasi tutto il cielo.